Low Desert dei Rem dall'album New Adventures in Hi-Fi, uscito il 9 settembre del 1996 per Warner Bros Records. Sono le 10.42 minuti e 28 secondi. Benvenuti alla seconda parte di almeno due pagine al giorno. E siamo alla nuova intervista, insomma, di almeno due pagine al giorno dopo la prima con Adriano Viterbini dei Bud Spencer Blues Explosion. Come ben sapete, qui parliamo di libri, di progetti editoriali, di progetti socioculturali, ma anche di dischi. Però oggi invece parliamo di un appello importante rispetto ad una battaglia importante che noi ovviamente, insomma, sottoscriviamo completamente perché riguarda, insomma, anche il rispetto alla tutela di un territorio, diciamo, già molto a rischio, se vogliamo, no? E se vogliamo anche un po' abbastanza dimenticato. Per fare questo parliamo e abbiamo in collegamento con noi Nadia Terranova. Ciao Nadia, buongiorno, benvenuta da almeno due pagine al giorno. Ciao, buongiorno, bentrovati. Allora Nadia, intanto vorrei, insomma, partire da questo elemento. Vorrei partire dal fatto che, insomma, scopriamo anche leggendo i giornali che un gruppo nutritissimo, se vogliamo, no? Di intellettuali, di artisti, di scrittori, insomma, si mettono insieme per sottoscrivere un appello per difendere un luogo, diciamo, dall'aggressione, se vogliamo, di un progetto, quale quello del Ponte sullo Stretto. Salvare la bellezza dello Stretto si legge anche su diversi siti, a partire dalla nuova ecologia. Insomma, un appello che avete presentato il 27 ottobre, sottoscritto, dicevo, da diverse figure, a partire da te, insomma, che sei una delle promotrici. Insomma, ci racconti, tanto per iniziare, di che cosa ovviamente stiamo parlando e quali sono, diciamo, le premesse, diciamo, di questa battaglia che ha portato a questo appello? Allora, spesso veniamo bollati come un comitato no ponte o come delle persone che si oppongono all'idea delle infrastrutture o del progresso. Crediamo che questa definizione sia estremamente riduttiva e anche in mala fede, perché nessuno di noi è contrario al Ponte sullo Stretto in quanto opera magnifica e di progresso. Quello che noi sosteniamo, io sono nata a Messina, le mie famiglie sono messinesi, sono messinese da secoli, conosco la città, il mio territorio, l'ho scritto nei miei tre romanzi e credo di conoscere davvero lo stretto sotto ogni punto di vista, ecologico, letterario, pratico e da anni mi batto per una valorizzazione culturale ed ecologista del nostro territorio. Le coste di Messina e Reggio Calabria sono state distrutte da un punto di vista urbanistico, da diversi sismi, soprattutto da quello del 1908 che ha distrutto raso al suolo le città e come scrisse Giovanni Pasquoli, qui dove è distrutta la storia resta la poesia, la nostra poesia è la natura. Quello che noi abbiamo è il mare, questo mare sarebbe completamente distrutto, devastato da un'opera che non ci serve e non vogliamo. Tutte le persone che ho coinvolto, gli intellettuali, gli artisti siciliani, calabresi, ma non solo, hanno condiviso un'idea di valorizzazione e di progresso che vada nella direzione opposta, potenziamento dei traghetti, voglia di valorizzare il territorio, il desiderio che quel territorio venga conosciuto e non attraversato più velocemente. Non vogliamo un eco mostro che ci passi sopra le teste andando sempre e correndo da un'altra parte. Vogliamo che la gente sappia che a Reggio Calabria ci sono i bronzi di Riace, che a Messina ci sono due tele di Caravaggio, che le città possano rinascere dall'incuria in cui sono state lasciate da ormai più di un secolo. E con Alia tu dicevi... Non vogliamo e non abbiamo bisogno di cantieri che si aprono per fare girare soldi da persone, da politici che non conoscono il territorio, che hanno soltanto bisogno di opere megalomani e mitomani da intestarsi. E con Alia tu in un articolo che è stato pubblicato sulla stampa il giorno della presentazione dell'appello del venerdì 27 ottobre e dal titolo Lo stretto necessario dicevi di tutto, abbiamo bisogno di tutto il resto ma non abbiamo bisogno di un ponte perché in realtà poi facendo anche una ricostruzione anche di fondamentali culturali, se vogliamo, consentimi l'espressione, forse siamo già ponte, dicevi tu. Ci specifichi un po' meglio che cosa vuol dire questo? Lo stretto è un mare antico, è un mare molto particolare che bisogna conoscere. Chi lo attraversa magari nei giorni di agosto più caldi in cui c'è il bollino rosso, quei pochi giorni l'anno in cui fa la coda, non lo capisce, non lo conosce, non sa che cos'è vivere su quel mare. Non dico tutto l'anno ma anche un mese, ma anche per 20 giorni. Quando lo conosce, se lo conosce ne ha poi un'idea realmente diversa. è un mare che ha delle storie antiche, la prima volta che si parla dello stretto lo fa Omero nell'Odissea, nel dodicesimo canto, quando l'imbarcazione di Oedio Lisse viene distrutta da Scirle e Cariddi, viene attaccata da Scirle e Cariddi. È un mare che ha leggende greche, leggende normanne, bretoni, c'è il mito di Fata Morgana. Quando dico che il ponte c'è già mi riferisco al fatto che Pontus è la divinità del mare, vuol dire flutto? In greco è una divinità maschile e il mare fa già da ponte, unisce già due coste. Quello che noi vorremmo è creare per esempio delle navi che siano delle navi trasportatrici di bellezza e di cultura, non soltanto del pendolarismo che si fa e che congiunge. Vorremmo che ci fosse un'area percepita come stretese da siciliani e calabresi che abitano quella costa, che sono sì siciliani e calabresi, ma sono anche appartenenti a una regione che non ha un confine politico, che ha un confine geografico e sentimentale, la regione dello stretto, dell'Etna, di questo mare vulcanico ed estremamente rischioso, sismico, attenzione, perché poi c'è tutto il discorso anche dei rischi che sono grandi e che sono adesso tasciuti pur di mettere in moto questa enorme macchina mangiasoldi che è sempre stata il fantasma del ponte sullo stretto. Ma a noi non interessa dire no perché ci sarebbero dei rischi, a noi interessa dire sì, dire sì, venite, fermate, guardate che cosa si perderebbe. Ed è molto difficile poterlo spiegare in maniera non localistica. Per questo motivo all'Appello hanno aderito, e io ne sono molto felice, scrittrici, scrittori intellettuali non siciliani, Viola Ardone, Marino Sinibaldi, Loretana di Perini, potrei fare tanti nomi. È stato un appello trasversale, tra i primi firmatari e tra i redattori del testo c'è Gianfranco Zanna che ha una precisa storia politica, viene da lega ambiente, viene da sinistra, c'è Fabio Granata che è l'assessore alla cultura di Siracusa che ha una storia radicalmente opposta, viene da destra, eppure è uno dei pochi politici di destra oggi che non sta zitto per convenienza di fronte a questo spettro che di nuovo si aggira per le nostre terre e per i nostri mari. Ecco Nadia, è bellissimo recuperare anche un po' di racconto di quella che è la bellezza, perché rispetto al tempo che viviamo mi viene anche da sottoscrivere per esempio l'attacco dell'articolo che tu avevi pubblicato, che abbiamo citato poco fa, dicendo che come ve la raccontano è che noi oppositori siamo un po' nostalgici, non al passo con i tempi, addirittura vetusti eppure ignoranti, un po' teriapiatisti, scemi localisti, insomma in realtà come dire, anche difendere la bellezza è un progetto politico che sembra quasi oggi in controtendenza, ma che in effetti è un obiettivo da perseguire con grande ostinazione se vogliamo, no Nadia? Sì, io non sopporto questa idea per cui si autoproclamano cantori del progresso quando in realtà non c'è nessun progresso se non si fa un futuro delle radici, cioè io non ho nessuna dimensione nostalgica, non sono attaccata allo stretto perché ci sono nata o perché rappresenta la mia infanzia o la mia vita, certo lo è, sono attaccata allo stretto anche da un punto di vista logico strategico in funzione di crescita del territorio, mi chiedo perché dappertutto i porti, le coste diventano mete turistiche, soprattutto quando c'è storia, arte e cultura, ripeto, spesso anche gli stessi messinesi non sanno dei caravaggio del nostro museo e parlo di fontane, parlo di reperti che ci sono della Sicilia greca, parlo di un politico di Antonello, parlo di tanto e tanto che si potrebbe valorizzare, per non parlare delle spiagge, delle coste, adesso il territorio che verrebbe completamente spropriato e distrutto, cementificato, è proprio quello che è la costa più bella, quella dove c'è, dove la Calabria è più vicina alla Sicilia, dove c'è ed è nata la leggenda di Colapesce, dove c'era un borgo di pescatori che ancora oggi esiste, che è Torre Faro, insomma io credo che davvero ci sia una miopia nel volere aprire dei cantieri che probabilmente non sarebbero neanche finiti, ma che in qualsiasi caso rappresentano quello di cui la città non ha bisogno, la città ha bisogno di una strategia che sia economica e culturale insieme, che sia di valorizzazione. Le città hanno bisogno di questo? Le città hanno bisogno di questo e tu insomma dici anche ancora nel tuo articolo, insomma immagini, non pensavo di dover tirare nuovamente fuori la maglietta Noponte per esempio, no? Che era magari archiviata insomma dentro un casino. È una cosa così vecchia. È una cosa così vecchia, però evidentemente... È una cosa così vecchia questa idea delle infrastrutture, cioè loro credono di essere nuovi, ma è una roba vecchia da anni 80, cioè una cosa che veramente non va più in quella direzione il mondo. Oggi il mondo va in un'altra direzione, le nuove generazioni sono attente all'ambiente, sono attente alla valorizzazione di quello che c'è, il rispetto del territorio. Cioè si sta costruendo, e i più giovani ne daranno conto, un diversissimo rapporto con la natura, che invece questa idea vetusta dell'infrastruttura, vecchia, vecchia proprio dentro, ignora completamente del tutto. Per chiudere, dici che questa è una questione di tutti e c'è stata la sottoscrizione, come dicevamo, di 200 intellettuali. Insomma, diciamo, in che fase siamo però adesso anche del racconto, se vogliamo, di questa presa di posizione? Quali sono i prossimi passi, insomma, Nadia? Allora, vorrei precisare, noi non abbiamo fatto una petizione contro il ponte sullo stretto, perché a noi non interessa fare la battaglia no ponte e basta, a noi interessa che lo stretto sia messo sotto tutela, che diventi patrimonio dell'umanità. Ci interessa che l'UNESCO lo riconosca per quello che è, cioè un luogo dove la gente deve aver voglia di venire, un luogo dove sostare. Questo farebbe anche da protezione rispetto a fantasiosi progetti di questo tipo. Siamo in un momento di raccolta delle firme online, per cui su change.org potete comunque firmare e aggiungere la vostra firma a chiunque può farlo, da qualsiasi parte d'Italia e del mondo, e possiamo intanto cominciare a contarci, a spostare le cose, a fare numero, e poi ci saranno altri passi. Siamo resistenti e pronti alla battaglia. Pronti alla battaglia, noi è una battaglia che seguiremo e che ovviamente sosterremo assolutamente per quello che possiamo. Intanto Nadia, siamo in coda a questa conversazione. Ti ringrazio davvero per il tuo tempo, per la tua disponibilità, buon lavoro e grazie ancora per essere stata da almeno due pagine al giorno. Buona giornata. Grazie mille davvero e a presto. Grazie Nadia, buona giornata. Intanto noi siamo ancora alla musica, siamo ai Kills, questa è Wasterpiece.